Durante un servizio di scorta a bordo treno sulla tratta Padova-Foligno, gli agenti della polizia ferroviaria Fognate, sospettosi del comportamento schivo di un viaggiatore, si sono avvicinati per procedere alla sua identificazione. Questi, un trentenne straniero, già noto alle forze dell'ordine, con un'indagine a carico per abusi sessuali nei confronti di un minore, dapprima ha fornito il solo titolo di viaggio, poi ha esibito il proprio documento. La velocità del controllo, resa possibile dall'utilizzo di palmari di nuova generazione, dei quali sono dotati gli agenti della polizia ferroviaria, nei servizi di pattuglia a bordo treno, hanno permesso di verificare che la persona era stata espulsa per cinque anni dal territorio nazionale. Lo straniero che ha giustificato il suo reingresso in Italia ha affermato di non sapere dove andare. È stato quindi denunciato alla competente autorità giudiziaria per tale sua condotta, oltre che segnalato per la nuova espulsione ed accompagnato presso gli uffici della Questura di Bologna per la relativa esecuzione. L'intera operazione è stata condotta in collaborazione con gli uomini della Polfer di Bologna Centrale.